Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti alla terza conferenza stampa promossa dall'agenzia stampa neve che si occupa dell'ufficio stampa del sinodo valdese metodista. Oggi parleremo di informazione ma anche di 8x1000, il titolo scelto per la conferenza di oggi è le nuove strategie della comunicazione tra 8x1000 e informazione. Abbiamo voluto mettere insieme l'8x1000 e l'informazione perché anche attraverso l'8x1000 passa in un certo senso la comunicazione protestante e la comunicazione valdese. Per parlare di 8x1000 oggi abbiamo invitato Susanna Pietra che è la responsabile dell'ufficio 8x1000, il direttore di riforma Luca Maria Negro e il presidente della SEP che è la società edizioni protestanti Gianluca Barbanotti. Intanto volevo ringraziare l'emittente Radio Bayquite che sta mandando in streaming la conferenza stampa, Radio Voce della Speranza che riprenderà questa conferenza stampa. Inizierai subito con l'8x1000 con Susanna Pietra chiedendo quali sono le strategie della comunicazione dell'8x1000 che tra l'altro sta dando risultati direi più che eccezionali. Buongiorno a tutti, le strategie di comunicazione dell'8x1000. L'8x1000 è un po' uno degli aspetti delle chiese valdesi e metodiste che più è visibile all'esterno e per questo la strategia di comunicazione è sicuramente molto molto particolare. Viene curata da una commissione che si occupa proprio di definire quelli che sono le linee, i temi della campagna pubblicitaria con il supporto del moderatore e dell'ufficio. Ogni anno si cerca o di scegliere un tema di denuncia sociale che possa in un certo senso dimostrare alcuni degli impegni e dei progetti che vengono sostenuti con i fondi 8x1000 e sottolineare anche all'esterno la possibilità di richiedere per quel tipo di attività determinati finanziamenti oppure, come è stato fatto quest'anno, si è scelto un tema non specifico ma più generale, mettiamo in moto energie alternative, proprio per sottolineare questa che è la peculiarità principale dell'8x1000, cioè il fatto che tantissime realtà, tantissime associazioni italiane e straniere, perché questo è il fenomeno degli ultimi anni, richiedono questo finanziamento e grazie a questo finanziamento realizzano piccole e grandi attività che sono un po' appunto le energie alternative della nostra società. Ovviamente la comunicazione 8x1000 non deve limitarsi esclusivamente a questo, ma vuole essere un modo per far sì che attraverso la gestione di questi fondi la Chiesa e le Chiese abbiano la possibilità di raccontare chi sono e di dare un'importante testimonianza all'interno delle città. Grazie Susanna Pietra, torneremo ovviamente a parlare anche dell'8x1000 e abbiamo scelto questi due temi proprio perché ieri è avvenuta la discussione proprio su cultura e comunicazione riforma e claudiana, quindi era importante e domani ci sarà la discussione sull'8x1000 e anche l'approvazione dei progetti. Quest'anno si è parlato di una nuova strategia comunicativa che vedrà delle novità assolute diciamo nell'informazione protestante e vorrei chiedere a Gianluca Barbanotti che è presidente della SEP della società edizioni protestanti e farci raccontare a grandi linee perché si è scelto di puntare molto sull'informazione. Poi vedremo nello specifico con il direttore Luca Maria Negro quali sono le modalità, in che modo verranno attuate queste novità. Bene, buongiorno. Io ripartirei dagli stimoli del dibattito del sinodo di ieri mattina dove diciamo per fare un'estrema sintesi si è detto una chiesa che non comunica non è, cioè non esiste, non è una chiesa e forse non è niente. Dove è anche stato detto che una minoranza che non comunica è destinata a sparire, che è un altro elemento importante. Noi in Italia siamo sia chiese che minoranze e quindi questa esigenza di comunicare bene ce l'abbiamo. Potremmo anche aggiungere, per fare una citazione, che non si può non comunicare qualunque cosa facciamo o comunica qualche cosa, però si può comunicare in tanti modi e credo che questo progetto è una scelta dei tre esecutivi che sono dietro questo lavoro, quindi Lucemi, Lucebi e La Tavola, questi tre esecutivi di cercare di risistemare la comunicazione per fare in modo che sia più efficace sostanzialmente e quindi che raggiunga più persone e che comunichi meglio senza distorcere quello che è un po' il pensiero protestante e protestante in Italia. Quindi credo che questo sia essenzialmente il concetto fondamentale che sta attorno a questo grande sforzo che è stato fatto, che in qualche misura ruota attorno al giornale riforma ma coinvolge, diciamo senza voler prevaricare, schiacciare, annullare eccetera, tutta una serie di altri attori della comunicazione delle nostre chiese, da Radio Beckwith che ci trasmette, a Nev che ci supporta e poi forse ad allargarci anche ad altre collaborazioni, collaborazioni strette. Chiuderei questo primo intervento dicendo solo questo. La nostra idea è di spostare la ridondanza da avere una ridondanza di persone che vanno a cercare notizie a una ridondanza di risposte. Mi spiego meglio. Uno va a cercare una notizia, ha una possibilità di trasmetterlo su tre, quattro, cinque, sei canali diversi e quindi di raggiungere in questo modo una serie di persone e una platea molto più ampia. Quindi questo è un po' il nostro sforzo e chiaramente il Sinodo ha fatto un appello anche alle chiese per sostenere questo sforzo che ovviamente essendo uno sforzo di comunicazione e di trasmissione deve anche sapere che cosa dire, cosa dire, questo è effettivamente più compito della chiesa. Ecco, Luca Negro, diciamo l'informazione passa attraverso tanti modi. Io penso che ogni chiesa locale abbia il proprio sito internet, abbia la propria modalità di comunicazione per far arrivare ai membri di chiesa le proprie informazioni. Qui stiamo parlando di un progetto invece più ampio, che vuole, come diceva Barbanotti, convogliare il maggior numero possibile di informazioni all'interno di un unico portale, un unico giornale, insomma, senza però scavalcare, anzi collaborando fattivamente con tutti gli altri organi. È stato citato l'agenzia Stampa Never, Radio Bequit, Confronti, insomma, tutti gli organi di informazione che gravitano intorno alle chiese valdesi e metodiste. Nello specifico di cosa si tratta? Nello specifico si tratta di trasformare l'attuale organo di stampa delle chiese battiste e metodiste valdesi, che è Riforma, l'eco delle valli valdesi, trasformarlo con una moltiplicazione per quattro. Infatti lo slogan che noi utilizziamo è Riforma si fa in quattro, cioè non solo più un settimanale cartaceo che finora, fino a poche settimane fa, aveva sì anche un sito web, ma che era sostanzialmente la fotocopia, diciamo, del giornale cartaceo, ma a questo punto continua le sue pubblicazioni il settimanale. Poi avremo un nuovo portale che è già online durante questi giorni di sinodo e su cui è possibile, qui non so se sul computer potete ancora vederlo, se si è... potete trovare assolutamente in tempo reale tutte le informazioni, trovate anche foto, filmati e quant'altro. Poi ci sarà da ottobre un quotidiano online, cioè una newsletter quotidiana dal lunedì al venerdì che appunto darà informazioni su quello che accade nel mondo protestante in Italia e nel mondo. magari su questa questione del... e nel mondo voglio poi dire una cosa alla fine dell'intervento e poi per marcare, diciamo, la nostra presenza nel territorio su cui siamo in questo momento, cioè le valli valdesi, ci sarà anche un mensile cartaceo che si chiamerà Eco delle Valli, sarà un supplemento a riforma Eco delle Valli Valdesi, che sarà un mensile free press, cioè sarà distribuito ampiamente negli esercizi commerciali delle tre valli valdesi e del Pinerolese, della città di Pinerolo. Dicevo, questa operazione è fatta, lo ha già detto Gian Mario, in sinergia, cioè la sinergia è una delle parole chiave del progetto. Noi come mondo protestante italiano abbiamo tante testate, alcune di queste sono anche testate storiche, perché lo stesso riforma Eco delle Valli Valdesi ha le sue radici e è in continuità con l'Eco delle Valli Valdesi fondato addirittura nel 1848, ma per dire, noi pubblichiamo anche un'altra rivista, L'Amico dei Fanciulli, che esce ininterrottamente dal 1870. Cioè abbiamo sicuramente molte testate piccole, ma come dire, con una storia dietro. Il problema è che io credo in questo mondo globalizzato, in questo mondo in cui l'informazione appunto deve assolutamente passare attraverso internet, quindi con dei tempi anche veloci, non solo o si comunica o se no si rischia di scomparire, ma o si riesce a comunicare insieme, mettendo insieme le nostre forze e facendola appunto in maniera rapida e possibilmente allo stesso tempo accurata, perché a volte appunto la rapidità è nemica dell'accuratezza. Il nostro sforzo invece è un po' quello di essere un organo di informazione che, pur essendo molto aggiornato, cerca di appunto essere, di avere una certa solidità, una certa accuratezza. E quindi quello che vogliamo creare è un polo della comunicazione, un sistema della comunicazione protestante in Italia che parte già con due partner. Uno è Radio Bequite Evangelica, che tra l'altro gestisce tecnicamente il nostro nuovo portale, e l'altro è diciamo il polo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Roma con la sua agenzia stampa, NEV, Notizie Evangeliche, ma non solo, probabilmente si aggiungeranno anche altri partner a questo progetto. Un'ultima parola finale sull'orizzonte diciamo globale di questo progetto. Giustamente si diceva siamo voce di una minoranza. Sì, fino a un certo punto vorrei dire, nel senso che è vero che il protestantesimo in Italia è un'infima minoranza, ma non lo è a livello mondiale, non lo è a livello globale. Credo che noi possiamo sfruttare, una delle cose che faremo, sfruttare molto di più la grande attenzione e la nostra partecipazione come Chiese protestanti italiane a quel movimento, diciamo, ecclesiale molto più vasto che è il movimento ecumenico, il movimento degli organismi ecumenici. La nostra partecipazione ha tutta una serie di organizzazioni ecclesiastiche, soprattutto del protestantesimo, ma non solo. La nostra ambizione è quella di essere in Italia una voce, vorrei dire, del protestantesimo e nello stesso tempo di quello che si chiama il movimento ecumenico che a volte in Italia è normale, è visto soprattutto come il problema del dialogo tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese, ma in realtà appunto c'è un movimento ecumenico che ha più di cento anni di vita e noi ci siamo dentro a questo movimento appunto esattamente da un secolo e crediamo che, tra l'altro, far sentire meglio questa voce e questa esperienza possa aiutare l'Italia a sprovincializzarsi un pochettino dal punto di vista dell'informazione religiosa, possa essere un contributo non solo al dialogo tra le Chiese cristiane, ma anche al dialogo tra le diverse religioni che ovviamente si affacciano in questi ultimi decenni nel nostro paese. Grazie Luca Negro, noi siamo minoranza però non è, questo dato viene un po' smentito da quelli che sono i dati ufficiali invece delle firme 8 per 1000 quindi da una parte c'è il racconto, la narrazione, i fatti, l'informazione, dall'altra c'è invece questa comunicazione che arriva anche a chi non è protestante, non è valdese, che comunque decide di destinare la propria firma dell'8 per 1000 all'Unione delle Chiese metodiste valdesi. Secondo te, Susanna Pietra, per quale motivo? Quando noi chiediamo a tantissime persone che vengono in ufficio ma perché avete deciso di firmare a favore della Chiesa valdese? Diciamo che le principali risposte sono due la prima perché voi ci raccontate come vengono utilizzati i fondi e la seconda che poi è legata alla prima è perché di voi ci fidiamo perché magari l'associazione di una persona che conosco ha chiesto il finanziamento l'ha ottenuto, il progetto è stato realizzato, io l'ho visto e quindi ho veramente la certezza che i soldi vengano utilizzati per quello che voi raccontate e dite quindi in questo senso la comunicazione è l'essenza dell'8 per 1000 gli italiani che firmano in favore delle Chiese valdesi e metodiste sono tantissimi l'ultimo dato è relativo alle dichiarazioni del 2011 quindi ai redditi del 2010 ed è di 613 mila italiani che hanno deciso di affidarci in gestione il loro 8 per 1000 e proprio per questo anche come ufficio 8 per 1000 insieme con la commissione pubblicità abbiamo iniziato a sviluppare ancora meglio la comunicazione e abbiamo lavorato su due filoni il primo è stato con la collaborazione di Radio Beckwith Evangelica realizzare dei reportage, dei reportage multimediali che si possono prestare ad essere visti, letti, ascoltati per cui sono un mix di interviste, foto, articoli e che servono proprio a raccontare per aree geografiche, aree tematiche le storie che ci sono dietro ai progetti quindi in quel caso non tanto a raccontare noi ma a raccontare quello che gli altri fanno grazie anche alle nostre modalità di gestione dei fondi e immagino che insomma poi anche alla luce di quello che sarà il nuovo progetto riformativo in 4 ci sarà assolutamente la possibilità di lavorare insieme per aggiungere magari a questi reportage anche altre modalità di comunicazione e poi dall'altro è iniziare a supportare le chiese perché l'otto per mille è l'otto per mille delle chiese che sono sui territori appunto come dicevo prima ad aprirsi all'esterno in questo senso sono stati organizzati degli eventi altri sono in programma il prossimo sarà il 19 settembre a Napoli e uno degli elementi che cerchiamo sempre di curare è quello di far sì che questi eventi si svolgano all'interno delle chiese o all'interno delle nostre strutture perché quello è un modo per far sì che l'immagine dell'otto per mille che spesso è appunto un'immagine che è staccata dal resto si associ alla presenza proprio fisica delle chiese o delle opere sui territori e aggiungo soltanto quest'ultima cosa che a volte appunto rimane un po' in disparte ma quando noi iniziamo a parlare dell'otto per mille subito dopo si arriva alla domanda ma chi sono i valdesi e chi sono i metodisti e questo credo che sia un elemento importante su cui bisogna riflettere perché è veramente un modo per raccontare chi siamo e un'occasione di testimonianza grazie Susanna Pietra raccontare chi siamo ecco in passato forse qualche problema in più rispetto al tema della comunicazione e dell'informazione nelle nostre chiese c'è stato abbiamo guardato più all'interno che all'esterno ieri è stato approvato diciamo questo progetto all'unanimità quindi un evento anche particolare è cambiata l'aria? Penso decisamente di sì credo che sia necessario era necessario e sicuramente le chiese a questo punto se ne sono anche rese conto e devo dire dal punto di vista emotivo l'unanimità con la quale gli interventi sono stati a sostegno anzi alcuni addirittura anche di allargamento di mission rispetto a quello che abbiamo proposto con dei free press magari non solo locali ma anche in occasioni eccetera cose interessanti e stimolanti sicuramente ci danno l'idea che qualcosa sta cambiando certamente abbiamo l'esigenza di allargare la platea dei destinatari della nostra comunicazione la comunicazione cartacea ha sociologicamente ormai un target molto definito e quindi su questo bisogna lavorare abbiamo bisogno di lavorare sulla comunicazione territoriale qui nelle valli dove in effetti anche qui negli anni c'è stato non tanto un arretramento un rimanere sulle posizioni mentre invece altri strumenti si sono sviluppati e sono andati avanti quindi questo sicuramente è un elemento sul quale c'è la volontà da parte della chiese delle chiese di andare avanti le difficoltà che abbiamo sono quelle di mettere in sinergia le cose parlarne qui da questo tavolo è molto facile molto bello eccetera poi metterci insieme tradizioni abitudini consuetudini sigle da conservare piuttosto che no ecco su questo lavoreremo lo spirito mi sembra molto buono i primi risultati mi sembrano eccellenti si lavorerà su questo però questi sono problemi operativi che penso che riusciremo ad affrontarli grazie Gianluca Barbanotti l'ultima domanda prima di dare la parola ai giornalisti a Luca Maria Negro al sinodo partecipano anche tanti ospiti stranieri io penso che questo progetto sia stato presentato Luca Negro tra l'altro un'esperienza decennale all'estero legata all'informazione quindi noi siamo così indietro o siamo al passo con i tempi anche con i nostri partner e amici stranieri ma direi che siamo abbastanza al passo con i tempi nel senso che un po' dappertutto c'è una una crisi della carta stampata e c'è la la tendenza appunto a cercare di sviluppare nuovi progetti che abbiano come centro però non non esclusivo la la comunicazione appunto su internet in generale la comunicazione direi multimediale quindi io credo che noi siamo abbastanza in linea per sviluppare il nostro progetto noi ci siamo ispirati a alcune esperienze qui in Italia ma anche all'estero per esempio un'esperienza francese e altre credo che siamo sostanzialmente sulla stessa lunghezza lunghezza d'onda con una difficoltà appunto che hanno in realtà molto spesso le le nostre chiese all'estero in cui il peso appunto di magari giornali cartacei che hanno alte tirature e che quindi è più difficile sostenere da un punto di vista finanziario crea come dire una crisi e ho sentito dei colleghi che mi hanno detto beh provo un po' di invidia perché tu sei tornato in Italia da noi chiudono questo chiudono quello chiudono quell'altro da voi invece si sviluppa ecco quindi però è chiaro che lì si parla di giornali che hanno centinaia di migliaia di copie qui siamo ovviamente a un livello molto più modesto Luca Maria Negro allora adesso la parola ai giornalisti prego Antonio Giaimo la stampa faccio io la presentazione beh si guarda sempre con attenzione alla nascita di un nuovo format di comunicazione come quello che voi state presentando oggi io voglio sapere qual è il rapporto della chiesa valdese metodista anche con i social network li usate avete un ritorno pensate anche di implementare questo utilizzo grazie vogliamo raccogliere altre domande prego Papini Roberto Davide Papini la nazione volevo chiedere sempre su questo progetto di informazione due cose una che cosa significa in termini di investimento economico questo farsi in quattro quindi se si può quantificare diciamo quello che è l'investimento lo sforzo che viene fatto magari anche con diciamo uno sguardo sugli organici cioè quanti sono gli organici impegnati sul settimanale sul sito eccetera eccetera quanti giornalisti assunti o i collaboratori la seconda invece sui contenuti è capire se la nascita di questa free press che è dedicata alle valli comporterà diciamo l'uscita delle pagine sulle valli nel settimanale cartaceo riforma approfitterei anche della presenza di Susanna Pietra l'otto per mille visto che sarà discussione di domani e quindi l'abbiamo qui oggi quindi se ci fossero domande anche per domani fatele ora prego Paravati Claudio Paravati per confronti volevo chiedere a Susanna Pietra l'aumento delle firme degli ultimi tempi penso comporterà un lavoro sempre crescente e cosa si sta facendo per affrontare un lavoro di questa importanza di questa mole grazie direi se ce ne sono altre le raccogliamo subito oppure diamo la parola per le risposte allora prima Susanna e poi allora sì l'incremento delle firme e quindi l'incremento dei fondi e di conseguenza l'incremento delle richieste di finanziamento e dei progetti da sostenere ha richiesto un cambiamento di quelle che erano le modalità gestionali seguite fino a questo momento è da un anno che stiamo lavorando con momenti insomma un po' di pausa e poi di ripresa alla creazione di un portale per innanzitutto ricevere online nelle domande di finanziamento perché noi al momento lavoriamo ancora sul cartaceo e dati numeri e cioè 2200 richieste avute quest'anno è praticamente impossibile continuare a lavorare in questo modo questo significa anche un po' un ripensamento delle procedure una dematerializzazione delle attività dell'ufficio l'individuazione di una nuova sede per cui insomma nei prossimi mesi l'ufficio si trasferirà nello stesso stabile ma in dei locali più ampi e in futuro anche appunto una ampliamente una diversa strutturazione dell'organico con dei profili specifici in grado di curare alcuni aspetti che fino ad oggi sono stati assolutamente curati ma che vista appunto la mole di lavoro devono essere implementati stiamo anche immaginando un sistema di controlli per i progetti sia in Italia che all'estero stiamo insomma studiando una modalità che tenga conto delle varie sfaccettature e delle varie tipologie di progetto per cui ci saranno insomma delle collaborazioni con le agenzie delle chiese protestanti con le quali già collaboriamo ci sarà un maggiore impegno da parte dell'ufficio e anche un maggiore coinvolgimento delle chiese locali proprio appunto per far sì che si creino questi legami sui territori queste grandissime linee sono insomma gli elementi sui quali si sta lavorando per far fronte a questa importante mole di lavoro grazie Susanna Pietra Gianluca Barbanotti rispondo sulla richiesta di chiarimenti sulle risorse sulle risorse chiaramente non si possono fare le nozze coi fichi secchi c'è bisogno di mettere delle risorse per poter portare in fondo dei progetti in modo serio il moderatore ieri che in qualche misura è un po' il garante del progetto essendo un progetto finanziato in parte dall'otto per mille è stato molto chiaro ha detto gli effettivi al termine del 2015 faranno una verifica e su questo si farà il punto sull'efficacia degli interventi che abbiamo fatto quindi sull'ampiezza delle platee che siamo riusciti a raggiungere sui contatti sui lettori eccetera e nel loro rapporto con le risorse investite quindi diciamo noi abbiamo un orizzonte temporale definito non è un progetto che vada qui all'infinito ma è un progetto che ha una verifica nel 2015 ovviamente stiamo tutti lavorando perché nel 2016 si va davanti ovviamente però comunque da parte degli esecutivi che ci hanno dato l'incarico c'è questo orizzonte sul fronte delle risorse diciamo ieri si è accennato a 130 mila euro per quel che riguarda questo progetto dell'8 per mille teniamo presente che su questo c'è un po' tutta la galassia nel senso che c'è sia la SEP riforma eccetera poi c'è anche Radio Backuit quindi dentro questo finanziamento stanno entrambe le cose sul fronte invece delle risorse umane è molto difficile fare esattamente il punto perché volendo lavorare integrati quanti stanno su quotidiano online piuttosto che su cartaccio eccetera internamente abbiamo tirato qualche riga ma poi io spero vivamente che non sia mantenuta cioè nel senso che quando c'è proprio bisogno da una parte andiamo da una parte o dall'altra sicuramente abbiamo incrementato l'organico che aveva riforma con un tempo pieno più due più due mezzi tempi e su questo diciamo che abbiamo andiamo a continuare il lavoro di riforma facciamo il portale il quotidiano online che sarà comunque una newsletter che partirà tutte le mattine cinque giorni a settimana con adesso non voglio sperare e sbagliare ma tre quattro notizie nuove tutti i giorni quindi sarà un impegno molto grosso più il free press mensile che comunque anche se questo attingerà eccetera avrà comunque la sua redazione la sua impaginazione propria e credo che su questo se riusciamo a rimanere per quel che riguarda la riforma su questo organico credo che sia calibrato giusto scusami articoli U a tempo indeterminato noi abbiamo solo collaborazioni diciamo questo diciamo non abbiamo fatto nessuna assunzione a tempo indeterminato su questo nuovo progetto questo è il passaggio tra l'altro è arrivata anche un messaggino una richiesta visto che siamo collegati con la radio voce della speranza che tra l'altro poi ritrasmetterà questa conferenza dicevano anche gli amici e avventisti sarà possibile collaborare in rete anche a questo progetto io penso che la risposta si ascoltano certo molto interessante sui social assolutamente sì nel senso che proprio la presenza sui social è uno dei punti caratterizzanti del nuovo progetto sul nuovo noi già adesso per dire in questi giorni durante il sinodo voi avete sia sulla pagina facebook di riforma sia con twitter tutta una serie di foto che vengono postate in tempo reale semplicemente con un breve commento poi ovviamente se uno vuole invece degli approfondimenti eccetera andrà sul sul sinodo e sul diciamo sul quotidiano il quotidiano avrà alcune notizie 5 o 6 almeno speriamo notizie al giorno poi ci sono delle rubriche queste rubriche sono una rubrica biblica poi vabbè c'è l'agenda degli appuntamenti e poi c'è anche una rubrica che non sarà forse proprio tutti i giorni ma una rubrica comunque dedicata proprio a cosa succede in rete cioè quali sono gli umori anche le reazioni sui temi che noi affrontiamo su facebook in particolare twitter eccetera quindi c'è sicuramente un'attenzione c'è vorrei ancora aggiungere per quanto riguarda l'otto per mille una delle novità del progetto è che avremo una nuova sezione del settimanale che sarà dedicata a diaconia e otto per mille quindi vogliamo dare uno spazio più o meno di due pagine a quello che fanno le nostre opere diaconali ma anche a quello che viene fatto con l'otto per mille in questo momento della chiesa valdese delle chiese valdesi metodiste ma in futuro quando arriveranno i soldi anche delle chiese battiste il free press non sostituisce completamente le pagine dedicate all'eco delle valli sul settimanale cioè sul settimanale continueremo ad avere da due a tre pagine o meglio da tre a due pagine nel senso che in prevalenza saranno tre pagine adesso sono quattro qualche volta saranno solo due per esempio sicuramente quando esce il mensile free press ci saranno due pagine e basta quindi sul settimanale cercheremo però un pochettino di forse spostare il tiro le pagine sul riforma avranno più notizie su quello che succede nel mondo specifico delle chiese delle valdesi delle valli che non magari tante altre informazioni sulla società civile su questo ci riserviamo di riflettere soprattutto perché ovviamente si tratta di un mensile di proporre una riflessione sui grandi temi che attraversano il territorio del Pinerolese attraverso uno strumento diverso dal settimanale che sarà questo mensile free press benissimo allora io direi che chiudiamo qui la conferenza stampa ringraziamo di cuore Susanna Pietra che tra l'altro oggi aveva molto lavoro da fare quindi grazie davvero per aver partecipato perché domani è in discussione appunto l'otto per mille Gianluca Barbanotti e Luca Maria Negro vi ringraziamo sono a disposizione per eventuali domande dopo la conferenza stampa e precisazioni grazie a Radio Bayquit e grazie a Radio Voce della Speranza e a risentirci a domani Grazie a tutti